Grazie a tutti. No, RS. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si prepara con il numero 104 Antonio Lipari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora... C'erano due millesimi. Giusto? Allora... Ehi, vabbè, quello che ha ragione è sempre lui e si chiama il cronomeno. Bellissimo. Allora, iniziamo con... Gruppo... Terzo classificato... In silenzio, mi sentite? Fusto Domenico. Secondo classificato... Liberi Antonino... Primo classificato... Fusto Giacomo... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.